L'unica sanzione è un'altra denuncia presso il centro, quindi è un cerchetto che si muove al problema di dicembre. E poi si parlava in questo, a parte di farlo, sulle relazioni di uffici, anche se si vede che un po' pensato molto, che ha detto su un'estate del incendio, riuscire a rispondere a una situazione spaventosa, che addirittura non sanno cosa fare di fronte a rivolte consensuali e che ha detto sulle relazioni di fronte a rivolte a rivolte a rivolte a rivolte a rivolte a rivolte e una spesa di lati che può dire a rivolare che non sa, e ha detto che si è questo dire. L'Avvocato Calabrese ha parlato del regoso legislativo Cirinani e deve essere approvato l'argomento italiano su una grandissima conclusione di corso che purtroppo può essere politico, ma a livello culturale del Parlamento italiano, che è di fronte a un ciclo così importante di piano, che è consapevole di tutti gli stessi, che è di fronte a rivolte a rivolte a rivolte a rivolte a rivolte a rivolte. Grazie. 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 Grazie.